Chiamiamo sul ring l'arbitro che è il signore Marco Pacor di Roma E chiamiamo sul ring all'argo blu da Roma Gabriele Casella Il suo avversario, all'anno rosso, Ziaoua Elgari Grazie Il suo avversario, all'anno rosso, Ziaoua Elgari Il suo avversario, all'anno rosso, Ziaoua Elgari Il national fight di D1 rules, categoria prima 75 kg 3 round da 3 minuti Altre il signore Marco Pacor di Roma All'anno rosso, con un regola professionista formato da 25 incontri disputati 22 litori per lui, 8 dei quali per K.O. 3 solo sconfitte Medaglia d'oro ai campionati mondiali junior di T1 Waco Pro 2012 Medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Muay Thai Waco 2013 E' il campione italiano per la federazione italiana Big Box in Muay Thai, il Salate Shook Box E per la Waco Pro Per il team body fight liberati da Roma Gabriele Casella Il suo avversario All'anno rosso, con un regola professionista formato da 89 incontri disputati 68 vittorie per lui, 32 delle quali per K.O. 15 sconfitte e 6 pari Campione italiano Muay Thai 2007 Campione europeo E1 per la K.O. 2008 Campione mondiale E1 per la K.O. 2008 E WTK 2010-2011 Dal barocco all'anno rosso Gioquio Romano Le 31 E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo E' l'ultimo E' la prima ripresa, first round. Partia! Due minuti! Guardiamo, partiamo... E' l'angelo pоль che si manca ed è un affidamento... I continui! Utilizziamo! Bello, bello... E' l'angelo! E' l'angelo! E' l'angelo! E' l'angelo! E' l'angelo! È finito, l'ho cominciato. Adesso non mi sono finito. Calma, non mi sono finito al diretto. Devi stare calmo, aspettare. Aspettare. Dai calmo, dai calmo. Stai là fermo, devi andare col tetto. Pure questo l'ha preso. Questo l'ha preso. Vai che... Glocchi è diretto. Stai tranquillo, stai tranquillo. Stai tranquillo, stai tranquillo. Stai tranquillo, stai tranquillo. Brontale e diretti. Ascoltami, Brontale e diretti. Bravo. Brontale e diretti. Sentirei appena c'è il cazzo. Brontale e diretti. 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 Lontane e diretti, non vanno a casa. Doci, stella, aspetta il gol diretti. Dei fattenti. Cosa fa aiutarti, non le faranno aiutarti. Stessa fai facendo da sé raccoglio. Questo è da Sbordia! Allora, non sei perché. Noi senti di mezzo. È forte, si stai attivando a te. Ma un po' è trattato. Se senti? Fuori i secondi. Seconds out. E la seconda ripresa. Round 2. Prontale, prontale. Quello che li fai. E poi entri con te. Su. Dai, forza. Dai su, dai su. Dai, stai lì, stai lì, stai lì. Tira, tira i colpi però. Dai, stai lì, tira. Bravo, vai. Adesso aumenta. Dai, Gabriele. Ti metto, ti metto. Bravo, bravo. Adesso. Ti metto. Ciao a tutti. Siamo i testi. Ciao a tutti. Oh, bravo, bravo. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Poi, grazie. Poi, grazie. Come, grazie. Oh, frontale a O, frontale a destra, Gabriele non sorpassa, quindi la frontale, un minuto. Dai lì questo, e poi entri, no, adesso, Gabriele, lui Mottese, punta su, segno fare. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti